Il momento della terza corsa dall'Arcoveggio, cavalli di quattro anni sulla distanza del Miglio, sono 11, 1, Dukan, 2, Dama di Corte, 3, Dulcinea, Di Casei, 4, Dubai Pax, 5, Diablo, 6, Darrigo, in seconda linea, 7, Durango, 8, Diritto d'autore, 9, Dolce Stella, 10, Dede Buio, 11, Dubai Grad. Favori per Darrigo, numero 6, VP dell'Annunziata in sediolo, Dukan e Dubai Grad, estremità dello schieramento, sono le alternative principali. Vediamo parte piano, come sempre, Darrigo, mentre subito Dukan veloce, lo è anche all'esterno Dubai Pax, mentre in seconda posizione si accoda subito Dama di Corte, ma è Dubai che guida, all'esterno Dubai Pax che va sul leader, dopo 200 metri di gara lo impegna, replica però Dukan, i due alle prese, ma poi insiste e passa. Dubai Pax, che è quindi il nuovo leader nei confronti di Dukan, dopo 400 metri di gara completati in 29,2, in vantaggio l'allievo di Andrea Vitaliano, che ha in schiena Dukan e Dama di Corte, gli altri più discosti, tiene sempre buona andatura, il leader che completa i primi 600 metri di gara in 45,1 sul piede dell'1,15, mentre cercano di progredire ora cavalli all'esterno, tra questi vediamo Dolce Stella, poi c'è anche Dulcinea di Casei, Darrigo, però sono costretti in terza ruota, sia Dulcinea che Darrigo che va addirittura in quarta. Sette, Durango, squalificato. Squalifica intanto per Durango e siamo a metà della penultima piegata, sempre leader Dubai Pax nei confronti di Dukan, arriva in seconda ruota ora Dolce Stella, che si porta a ridosso dei primi, va su Dubai Pax che ha speso il meglio e lo sopravanza in breve, in vantaggio quindi Dolce Stella che cerca di portarsi in, di guadagnare il terreno, non progredisce più Darrigo, che viene squalificato, sbaglia anche Dolce Stella che era al comando, lascia Dama di Corte in vantaggio, poi c'è in seconda posizione ora Dubai Grad, numero 9 Dolce Stella squalificato, ambio. Retta d'arrivo con netto primo piano per Dama di Corte che si isola in avanti con Sandro Miraglia e viene a vincere nei confronti di Dubai Grad, mentre al terzo posto finisce Dead di Buio. 1-15-1 con 29-7 a chiudere, ci sono sicuramente state evenienze favorevoli, però non ha rubato nulla Dama di Corte che vince per distacco, 1-15-1, Sandro Miraglia in sediolo per conto di Lamberto Barbieri e del signor Alfonso Ferrante, vince per distacco questa terza corsa all'Arcoveggio, Dama di Corte, secondo posto a distanza per il numero 11 Dubai Grad, che transita in questo momento, vedete nel replay, mentre al terzo chiude Dead di Buio. 2-11-10 l'arrivo della terza corsa a Arcoveggio. 3-11-10 l'arrivo della terza corsa all'Arcoveggio. 3-11-10 l'arrivo della terza corsa all'Arcoveggio. 4-11-10 l'arrivo della terza corsa all'Arcoveggio.